salve a tutti iniziamo con la presentazione dei passi nel bosco di sandro campani all'interno del ciclo di eventi incordata organizzato dal circolo di lettori e curato da Eleonora Smiroldo in collaborazione con la libreria della montagna di Torino infatti così spassionatamente vi chiediamo che qualora vi interessi il libro di Sandro provate a non favorire diciamo grandi incorporazioni della vendita del digitale in questo momento ma le piccole librerie nello specifico magari la libreria della montagna che ci ha aiutato insieme a Sandro e a me Leonardo Caffo c'è Irene Borgna che oltre a essere una antropologa alpina ci tiene a dire che poi dirà lei che ha anche una guida naturalistica quindi arriveremo a questo punto e oggi noi presentiamo appunto lo ripeto i passi nel bosco che è un romanzo che è stato pubblicato all'interno della collana super coralli dico bene Sandro della della Enaudi è Sandro Campani è uno di quegli scrittori che tutti possono invidiare per le quarte di copertina biografiche che gli editori gli mette perché invece che esserci le quarte di copertina quelle un po' triste che ci sono per gli autori come me tipo insegna qua fa questo eccetera eccetera c'è una meravigliosa vive e lavora in un paese dell'appennino tosco emiliano che però è fondamentale per i temi dei suoi libri quindi in realtà è immediatamente come dire ci porta all'interno dell'immaginario dei libri di Sandro che è al suo credo secondo libro con Leinaudi perché il primo si chiamava Il Giro del Miele e poi ne ha pubblicati tanti altri con Playground, Pequod e anche con Rizzoli comunque era uscito La Terra Nera questo libro io adesso faccio un po' il moderatore che si automodera prima di dare la parola a Irene e Sandro ma Sandro noi in teoria lo dobbiamo torturare Irene perché è la nostra è la nostra cavia i passi nel bosco per chi come me di mestiere non fa propriamente lo scrittore nel senso che tutte le volte che prova a scrivere qualcosa di letteratura fa schifo mentre fa delle cose un pochettino magari più decenti spero sulla saggistica filosofica in cui il bosco è sempre stato uno dei temi con cui mi sono confrontato è un libro in cui questa è la prima cosa che dico ma volevo poi sentire subito Irene entreremo dentro la non trama come tipicamente Sandro Campani ci ha abituato nei suoi libri non succede assolutamente niente voglio dire questa cosa in modo ed è il motivo per cui succede tutto adesso magari ci ragioniamo su questo paradosso c'è l'assenza di trama e questi continui overlap di punti di vista tra i moltissimi personaggi che compongono la costellazione di questo luogo meraviglioso che credo sia una specie di villaggio inesistente ispirato al tuo paese ma adesso ci dirai tu ma è esattamente diciamo quella specie di luogo dello spirito in cui all'interno si mettono probabilmente dentro anche tutte le cose materiali che uno ha potuto fare di cui uno ha potuto fare esperienza all'interno della propria vita è anche un luogo meraviglioso per quello che riguarda appunto questa prima cosa che volevo dire con la trama per capire per quale ragione all'interno dei contesti più legati alla natura o più legati anche alle cosiddette comunità di montagna su cui si potrebbe aprire un capitolo enorme che Irene sicuramente saprebbe aprire meglio di me e adesso viviamo anche l'idea di trama deve cambiare perché questa idea di frenesia della successione temporale è anche una cosa a cui siamo abituati in un contesto molto diverso da quello in cui si ambientano i libri di Sandro Campani quindi anche come dire un abituarci a un ritmo a un timbro a mio avviso molto diverso da quello da cui un lettore di città come posso essere io è abituato a trovarsi la frenesia immediata anche se il libro comincia con una robustezza secondo me di punti di vista perché c'è questo continuo come dire scambio di versione dei fatti tra l'uno e l'altro tra l'altro il libro ha questa leggenda all'inizio sostanzialmente di chi sono il vasto arcipelago di persone e di personaggi e di casi umani vorrei dire se mi posso permettere che troviamo all'interno del libro in cui poi viene immediatamente alternata una cosa che adesso andremo a vedere di fatto questo inizio nei personaggi principali voi non vedete citato il nome di Lucchino che in realtà è il vero cuore pulsante su cui si scontrano i vari punti di vista, le varie visioni del mondo e le varie anche probabilmente idee dello stare al mondo che dentro questo villaggio che poi in realtà è davvero come dire un arcipelago di tutto quello che può succedere nella vita umana probabilmente ci sono ma dopo questa breve introduzione in cui non ho detto niente quindi è ancora tutto da dire e da fare volevo interpellare Irene e poi vediamo che cosa ci risponde Sandro alle nostre interpretazioni grazie Leonardo in realtà hai già tirato un sacco di ami nell'acqua e cerco di abboccare subito come mio uso io mi sono avvicinata ai passi nel bosco appunto come hai detto tu con l'Andi cioè con l'atteggiamento della guida naturalistica allora mi addentro circospetta e ammetto che mi ci sono volute due letture per capire cos'è che stava succedendo intorno prima lettura mi trovo in questo paese d'Appennino e lo capisco che è un paese d'Appennino perché ci sono le parole di un'altra terra io che sono a Ligure Piemontese sentivo l'accento sentivo i sapori in questo paese che non è un luogo riconoscibile e nello stesso tempo ha dei dettagli così vivi così vivi di essere quasi iperrealistico cioè più vero del vero e scintillante in alcuni piccoli particolari mi trovo lì e in un primo momento come dici tu sono spaesata perché non ce l'ho il bandolo della trama quel filo che mi serve a dipanare una vicenda mi trovo e inizio proprio a pensare di essere in un bosco un bosco eterogeneo circondato da alberi perché mano a mano come dicevi tu Leonardo prendono parola i personaggi io e senza aver fumato nulla, abusato di nessuna sostanza immagino che siano alberi a ognuno inizia ad attribuire una specie ecco che allora la barista Luisa così fiera lei che non sarà mai vedova di nessuno mi sembra un faggio perché il faggio in faggetta sta da solo sta solo tra i faggi e c'è tanto spazio nelle fustaie tra un albero e l'altro e Fausto? Fausto il fratello di questo luchino chi è? Un castagno però di quelli che a volte hanno il legno marcio dentro quindi sono stupendi fuori ma poi sarà tuttora quello che luccica e poi ancora Francesco povero Francesco papà di un figlio Carogna e un figlio venuto male Danielone lui mi sembrava un pioppo da filare tutto bello, serio, dritto e invece Danielone sto figlio scarcagnato mi sembrava aveva cercato di fare un bonsai da piccolo ah faccio un piccolo pioppo bellissimo e gli fosse scappato di mano e fosse venuto un pioppo deforme e Antonello il figlio Carogna mi sembrava il tasso barbasso veramente l'albero della morte ed ero lì che un po' spaesata che guardavo questi alberi perché in effetti nel libro Accidenti succedono due cose una l'hai già detta una cosa silenziosissima un ritorno un'auto parcheggiata a sghemba e un personaggio che non prenderà mai la parola e poi un'altra cosa rumorosissima gran rumore di motoseghe il taglio di un bosco il bosco di un morto che è il fratello di colui che ritorna e che ha lasciato una moglie e un figlio e torna in questo villaggio il taglio del bosco avviene in questo villaggio mentre tutti sono indaffarati nel taglio ricompare Lucchino ma Lucchino chi è? che albero è se fosse un albero? ma siamo sicuri che sia un albero? Sandro fosse un albero cosa sarebbe? ma è un albero questo Lucchino? allora vedi che lasciare le cose come dire fiorire dall'improvvisazione porta sempre delle robe bellissime io non avevo mai pensato ai personaggi collegandoli agli alberi sai che quando ero partito sapendo che avrei costruito questa storia a più voci e con più punti di vista e quindi con più lingue anche se ovviamente appartenenti tutte come hai detto giustamente tu ha un ceppo ben preciso che è quello più o meno dialettale a seconda di chi parla comunque che è riconoscibile come la parlata tosco-emiliana non troverete un personaggio che parla in una lingua che so il milanese in vacanza non troverete il bancario che si esprime solo con un italiano burocratico cioè in realtà queste lingue sono ognuna diversa per sensibilità e ognuna se andate a spulciare nei termini che usano ha delle sfumature diverse però appartengono tutte un po' allo stesso ceppo e quando avevo pensato di marcare questa differenza tra i personaggi e queste lingue in realtà facendo la cosa opposta a quella che hai appena detto tu cioè segnalando i personaggi in base alla marca della motosega che usano tant'è che mi sono fatto una cultura tremenda sui motosega ragione per la quale per 20 giorni su internet mi arrivavano pubblicità di marco che sembrava che volessi intraprendere un'attività in quel campo cosa che in realtà fa già mio fratello piccolo quindi ho preso consulenza anche da lui e quindi sì pensavo ai personaggi come collegati alla motosega che usano non avevo mai pensato all'albero e Lucchino secondo me dovrebbe essere per certi versi un albero un po' esotico per come lo vedono gli altri e per come si vede lui secondo me è una quercia perché perché la quercia è l'albero più adattabile di tutti è l'albero che a cui a volte facciamo meno caso perché non dà non dà frutti cioè noi non mangiamo più il frutto della quercia lo diamo ai maiali per millenni ce ne siamo nutriti poi abbiamo pensato di cominciare a coltivare il grano abbiamo lasciato perdere le ghiande però la quercia è l'albero che viaggia di più è diffuso dappertutto è in mille varietà e ce ne sono decine 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 non sai mai riconoscere quella cioè almeno io ne riconoscerò tre o quattro ecco e perciò mi piace pensare a Lucchino come una cosa che è familiare a tutti e che però sfugge via quindi se c'è un albero che li racchiude tutti e che ha tutte quelle sfumature per me è la quercia quindi ti do per buona questa però ci ho pensato adesso pensa che io la quercia l'avevo affibbiata alla Betty perché appunto è generosa perché si adatta e perché fa ombra a tutti e quindi mi sembrava ospitale come una quercia e dovessi dirti pensando a Lucchino ho faticato ho faticato a mettergli delle radici invece che dei piedi perché appunto per quanto si muove e poi ho deciso che se proprio doveva essere un albero dovessi essere un albero strano un albero insolto un albero un po' magico un po' come l'agrifoglio che comunque sta vicino al faggio e quindi la Luisa l'avrebbe sopportata allora me lo vedevo un po' come esotico in realtà la quercia lo perde un po' Lucchino però spesso è esotico forse per gli altri perché ciascuno di noi diventa un mistero visto dagli occhi degli altri perché nasce il mistero perché dentro di noi crediamo di conoscerci se guardiamo un altro invece dobbiamo sempre interpretarlo quindi che poi anche il motivo per cui Lucchino in scena in questo libro non compare mai perché è il fatto stesso penso che siano sempre gli altri intorno a parlare di lui e a radunarsi intorno alla sua assenza che permette a Lucchino di di mantenere il suo mistero altrimenti mi sarebbe crollato il libro in mano insomma e non c'è mai stata quindi neanche una stesura in cui Lucchino prendeva la parola un attimo forse Sandro quando parlerei ne dobbiamo funì spegniamoli io e te riproviamo meglio ok no appunto quindi non c'è mai stata neanche in un momento una stesura del romanzo in cui Lucchino diceva qualcosa non era non è mai stato previsto ora sei Sandro devi riaccendere bisogna fare questo gioco perché poi c'è il ritorno dell'audio se no è normale quindi faccio e poi faccio così ok no non c'è mai stata una stesura in cui Lucchino parlava ho preso tantissimi appunti ho preso appunti per 4-5 anni prima di fare la prima stesura di questa storia e sapevo da subito che sarebbe stata una storia a più voci che quindi che per la finalmente avrei chiuso questo questo cerchio questo desiderio personale di fare una storia un po' alla maniera di certi scrittori con cui sono cresciuto su da piccolo insomma uno su tutti vabbè Faulkner è il modo in cui costruiva le storie in questo modo no soprattutto l'urlo e il furore mentre morivo e ma in generale tante cose che mi sono sempre piaciute hanno questo modo di girare in tondo più che seguire una linearità come diceva prima Leonardo con le trame no classiche da un punto A a un punto Z con gli snodi tutti belli in fila quasi come se gli avvenimenti avessero la priorità sull'umanità dei personaggi a volte succede questo no e a me io trovo più naturale girare in tondo soffermarmi scavare nei personaggi e poi magari se sono un po' fortunato dalle relazioni tra i personaggi salta fuori qualcosa che più che può ricordare una trama ma ricordare magari alcuni eventi che succedono nella vita ma non solo vabbè ho fatto un nomone altissimo che mi vergogno di averlo fatto Falkner però ma per dire che so anche tu in Pix è un mondo che quelle storie costruite attraverso l'affastellarsi di tanti sguardi che compongono in una comunità un racconto totale ecco Sandro scusami se ti interrompo però questa mi sembrava una cosa cioè una delle cose che mentre tu parlavi mi veniva in mente quanto visto che siamo anche nel ciclo incordata quanto sia fondamentale il tipo di paesaggio entro cui questa trama viene ambientata affinché questa non trama possa girare se uno probabilmente provasse a fare la stessa cosa che hai fatto tu ambientando da non lo so a Brera a Milano in qualche modo collasserebbe molto di più il tipo di struttura narrativa che tu ti sei dato perché il paesaggio dentro il quale tu ci porti in qualche modo non vorrei dire una cosa volgare però io avevo letto lì non l'avevo terminato mio malgrado sempre perché poi tu vai a accumulare i libri e non li finisci ma il tuo precedente romanzo con le Naudi che le Naudi all'epoca mi aveva gentilmente mandato cioè questo libro uno potrebbe quasi considerarlo volendo un secondo libro rispetto a questo cioè c'è una specie di grande immaginario dentro il quale tu ci stai facendo entrare poi ovvio non nel modo classico in cui uno fa una trilogia in cui c'è Pippo che in tutte e tre libri fa qualcosa però è ovvio che ci stai facendo entrare dentro un universo in qualche modo e questa è una seconda e questa idea del ritmo che tu ci dicevi con cui ti sei voluto confrontare anche con i grandi autori classici della tua formazione eccetera è tantissimo chiamata dal villaggio entro il quale è ambientato innanzitutto perché sembra scusami se io poi la butto magari subito su degli aspetti anche di comunicazione secondaria rispetto al valore intrinseco del romanzo che è già altissimo innanzitutto sembra mostrarci che esistono dei luoghi che sono completamente resistenti rispetto a un livellarsi dei modi di fare di vivere di dire delle persone che pensiamo essere completamente globalizzati cioè in questo villaggio possono succedere delle cose che in altri luoghi più urbanizzati eccetera sembrano impossibili da esistere anche questa comunità che si ritrova per andare a tagliare il bosco del fratello di Lucchino o anche questa mitizzazione del personaggio che non parla mai che talvolta appare come un donnaiolo poi a un certo punto credo che addirittura si parli di lui comunque uno che si era prostituito per andare con delle cioè c'è praticamente un cioè un un immaginario anche che sembra molto slegato dal come noi oggi ci interessiamo agli altri no? cioè c'è una mitizzazione tipica del villaggio tipica della 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 micro comunità e e quindi la mia domanda molto banale mi perdonerai è in che modo la struttura narrativa con cui tu ti sei confrontato che è veramente difficile da reggere secondo me cioè quello è un complimento che ti faccio nel senso che uno tipicamente noi siamo abituati al e mo' che succede e adesso che capita invece tu ci ci porti sempre adesso vediamo quest'altro punto di vista adesso vediamo quest'altro punto di vista adesso quest'altro adesso quest'altro in che modo è una una moglie naturale del paesaggio che hai scelto non so se questa è pertinente ma mi sembra si sposino in qualche modo struttura e forma nella narrativa che stai costruendo sì 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 hai ragione dopo sentiamo anche Irene cosa ne pensa io per conto mio ti posso dire che allargando il discorso a tutti e cinque i libri che ho fatto che questa questa cosa che tu hai notato di una rispondenza e di una continuità tra il giro del miele e questo in realtà c'è dal primo racconto che ho scritto personaggi che ritornano ambientazione che è sempre quella ovviamente come dicevamo all'inizio non è una valle realmente esistente è una valle traslata immaginaria che io ho ricostruito a partire da elementi che appartengono alla valle in cui sono cresciuto che è la Val Dragona in provincia di Modena ma potendo aggiungere volta per volta come fanno quelli che cercano le location per i film elementi presi di qua e di là questo per non per non attirarmi insieme al lettore in un giochino pericoloso del tipo riconosco questo riconosco quello ah ma quel posto non è così non è cosà che non mi sembra utile e per provare a vedere se riverbera in qualche modo una universalità in quello che faccio pur partendo da un luogo molto 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 circoscritto le cose che dici secondo me sono molto vere perché l'insistenza dello sguardo io parto sempre dal guardare quando quando provo a scrivere non parto da un tema non parto da un'idea di vicenda non parto da ci ho ragionato su questa cosa non parto da da tutta una serie di cose da cui parlando con amici che scrivono ciascuno ha le sue forme di scintilla di innesco la mia spesso è il luogo la mia è l'osservazione insistita è quasi un guardare come diceva Irene prima in maniera iperrealistica la superficie delle cose finché questa superficie non comincia a brillare e a espandersi e farmi intuire un di sotto e credo che questo abbia molta attinenza col fatto di essere cresciuto in un posto dove tutto è poco cioè dove c'è poco ci sono poche persone ci sono poche cose da fare se non hai un motorino o una macchina finché non compi 18 anni praticamente hai come amici i due coetanei che ti è stato dato in sorte che abitino forse nei 20 chilometri quadrati intorno a casa tua il tempo è dilatato lo spazio è dilatato è tutto più lento io ho avuto persino paura a volte nei miei libri di indulgere in questa sorta di dicotomia un po' da ragazzo della via Gluck città cattivo e campagna beh non volevo fare sta cosa da cartolina però me la sono chiesta questa cosa perché il rapporto problematico che ho con la città io non concepirei mai di riuscire ad abitare in un posto dove ci siano più di 3-4 mila abitanti mi viene mi sento oppresso è proprio perché in città tutto è veloce frenetico intercambiabile ma anche in senso buono le possibilità le opportunità le possibilità di conoscere centinaia di persone in un giorno solo ti molla la fidanzata conosci un'altra persona la sera stessa cioè probabilmente è proprio tutt'altro modo di vivere il ritmo proprio come dicevi tu e secondo me queste cose pian piano si sono sedimentate nel mio modo di guardare devi accettare la lentezza e della lentezza fare se riesci in qualche modo un un valore tu Irene cosa dici? allora cosa dico? eh ci arrivo perché anche a me ha colpito questa dicotomia anche se io l'ho declinata in modo diverso questa dicotomia tra il luogo piccolo e il luogo grande il restare e l'andare dopo la seconda lettura mi sono trovata proprio a mio agio in questo bosco parlante anche perché mi sono accorta che quello che c'era di interessante non stava come sempre succede nei boschi solo dal tronco in su la parte aerea degli alberi quella appariscente quella con le foglie che cambiano colore ma stava sotto perché ad ascoltarle bene queste voci a rileggerle anche ti accorgi che in realtà è proprio un affresco di radici quello che tu dipingi cioè quello che è lo sguardo perché si guardano l'un l'altro e si raccontano l'un l'altro i personaggi intorno a questa figura che li definisce un po' tutti l'uchino e beh le radici che cosa fanno dicono quello che non viene pronunciato ad alta voce mi immaginavo questi alberi con radici che si intrecciano che si strozzano perché si odiano che si evitano perché si vergognano e non funziona più la chimica tra loro eppure continuano a correre parallele sottoterra oppure veramente radici che si strappano interrotte bruscamente e ho iniziato a prenderci confidenza con questo mondo mezzo al di fuori che è raccontato che è visibile e mezzo sotto e sono questa piccola comunità questa comunità che è fatta grossomodo da quarantenni e dai genitori di questi quarantenni sa una parte di questo mondo ipogeo che sta lì nascosto assieme alle ife dei funghi e riflettendo su questa cosa pensavo che da antropologa è un po' tutta una storia di piedi contro radici l'unico che appunto sembra avere i piedi è Lucchino e gli altri personaggi sono radicati e anche per quello che non possono perdonare che non possono dimenticare non hanno avuto un'altra possibilità di vita un'altra redenzione chi per scelta chi per mancanza di fantasia di mezzi per destino sono tutti rimasti legati a un posto anche Antonello con questo episodio di abbandono dove Lucchino in realtà e Antonello forse in fondo lo sa non è stato che lo strumento di qualcosa che sarebbe successo lo stesso quando si porta via la sua amorosa si porta via Katia non ha più avuto veramente una seconda possibilità anche se Antonello gira ma il suo cuore è sempre lì è sempre radicato e visto che noi antropologi un po' abbiamo paura della metafora dell'albero chiudiamo tantissimo perché noi assomigliamo alle piante però appunto per fortuna i piedi che ci permettono di spostarci un po' da casa nostra a vederla da lontano e rimetterla insomma rimetterla un po' in discussione quasi che Lucchino che sembra quello strano perché si muove va e torna e appunto lui sembra lo strano ma in realtà è quello normale è quello che dal posto si allontana e poi torna e invece sembra mostruoso ma nel senso che risalta perché gli altri invece sono tanto tanto radicati in questo in questo posto qua e quindi mi è sembrato un grande discorso un grande dialogo tra tra piedi e radici dove forse l'equilibrio starebbe un pochetto in mezzo ecco una cosa che che mentre parlavate mi è anche venuta in mente è questa tu fai un uso che a me commuove perché lo trovo struggente della luce dei colori e allora prima dicevi io guardo guardo non è vero tu fai qualcos'altro tu fai di più e anche per colpa di Leonardo mi viene in mente Toro quando dice se tu vuoi scrivere un saggio sul mirtillo tu devi mangiarlo al mirtillo sporcarti le dita col mirtillo altrimenti il tuo saggio sarà sciapo non saprà di mirtillo e quindi in realtà tu nel bosco ti ci sei rotolato ci sei andato a funghi non l'hai solo guardato c'è proprio l'odore dell'umido c'è il colore delle foglie l'odore dei salici e ho avuto l'impressione che tu abbia proprio una prossimità che è qualcosa di più è intimità e immersione nel bosco è stato un altro dei miei vaneggiamenti o effettivamente è così? Allora innanzitutto grazie perché dici questa cosa perché sì uso per comodità il verbo guardare ma in realtà quando scrivi cerchi di di guardare con tutti i sensi insieme ecco so di avere una scrittura molto sensoriale e questa volta l'ho anche un po' allenata nel senso che per esempio quando la Luisa come dicevi tu parla degli odori delle foglie parla della forma delle foglie quando descrive per esempio quella quella sensazione che si prova per tornare alle radici quando si cammina sì sopra le radici dei pini che si avverte che sotto i tuoi piedi si intersecano vanno però fanno tutte delle piccole caverne per cui quando passeggi senti e alla Luisa ricorda il suono che si fa quando ci si batte sullo sterno che è come dire io il mio il mio petto il mio cuore è questa cosa io appartengo a questo posto no e quindi l'idea è l'idea delle radici e l'idea dell'appartenenza che sono un po' come come accennavi tu prima tante volte usate come come sinonimi io non so se ho davvero tutta questa prossimità io so per certo che rincorrere questa prossimità che sento sempre inadeguata sempre mancante come se io dovessi dimostrare al posto in cui sono cresciuto ai boschi dove mio papà mi ha portato da piccolo a funghi ai lavori che si fanno in questi posti lavori dai quali io mi sono mi sono allontanato e io mi sento come se dovessi dimostrarla questa prossimità e il fatto stesso che io scriva di queste cose è indice di un mio distacco da queste cose perché se le vivessi del tutto non ci sarei ci sarei dentro e quindi non avrei quella quella sorta di distacco estetico che fa sì che le cose le guardi dal di fuori e quindi ne puoi scrivere e questo è un paradosso che io mi tiro dietro e non va accettato quindi mi devo sempre fare quella domanda lì quando scrivo cioè sto portando rispetto a ciò che sto raccontando in questo senso lo sto descrivendo in un modo il più possibile coerente il più possibile rispettoso appunto cioè sto cercando di colmare questa distanza da ciò che descrivo o sto tentando di prendere una scorciatoia per far sì che ciò che descrivo faccia bella figura è quello che il rischio più grosso che si corre quando quando si scrive una storia ambientata in un luogo quando si tenta di descrivere un luogo magari un luogo un po' al di fuori delle rotte più comuni come diceva Leonardo prima sappiamo di non essere urbani sappiamo di abitare e di vivere luoghi che per la maggior parte della gente sono e non così frequentati quindi sarebbe un attimo farne una rappresentazione un po' come dire a uso e consumo di un esotico che qualcuno si aspetta e se mi succedesse questa cosa io non la sopporterei ecco Sandro ecco Sandro cioè se io dovessi scusami spegni il microfono perché sennò c'è questa alla fine saremmo performativi quando ci guarderà chi ci guarderà ecco una cosa che devo dirti io frequento la letteratura di montagna da semplicemente da fruitore niente di devo dire che in te non c'è la romanticheria secondo me non so se Irene d'accordo su questo del tipico wannabe andare a vivere in montagna no andare a vivere nel villaggio nella comunità cioè mentre noi in Italia siamo stati abituati adesso non facciamo i nomi ma poco importa giusto non è uno jacuzzi però tutta una serie di letteratura anche super mainstream sulla montagna in cui la montagna sembra il luogo favoloso in cui non succede niente perché è tutto meraviglioso è il ritmo è la bella tu in realtà ci presenti anche un'umanità abbastanza cruda no cioè non proprio tutti i personaggi di cui tu alterni il punto narrativo sono il prototipo tipico della letteratura romantica di montagna no alcuni sono proprio dei pezzi di merda se dobbiamo essere sinceri quindi cioè c'è un'idea di reale no perché poi chi la montagna la frequenta io ho una comunità in Piemonte dove partecipo ogni tanto ma abbastanza spesso in Valsesia per intenderci e lo sai che ci sono delle 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 l'umanità è ovunque no non è che la montagna all'improvviso ne congeli le problemi talvolta può essere un acceleratore o un decompressore di determinate di determinate di determinate cose però questa secondo me è una cosa che non è una è una non domanda ma è quasi una sestairene per capire se siamo d'accordo su questa cosa cioè c'è nei tuoi libri l'idea di consegnarci le cose un po' per quello che stanno filtrate dall'occhio dello scrittore dell'interprete della voia anche magari del conflitto che sicuramente tu avrai con questi luoghi li ami gli odi ti senti che sei allontanato poi sono i luoghi del padre della famiglia ci sarà qualche un po' di Lucchino e un po' di Sandro Campani in qualche modo si somiglieranno profondamente se no com'è giusto che sia in fondo se uno non attinge al proprio vissuto non si sa bene dove dovrebbe andare a prendere le cose però c'è l'idea come dire che la montagna che poi è anche sbagliato di una montagna in questo caso nel senso forse che esatto ma che questi luoghi sono semplicemente dei luoghi quindi quella anche smitizzazione di chi poi come dire in montagna ci va una settimana e dice ah beh lì è tutto bellissimo devi vedere questi con le loro bellissime attività in cui vanno alla messa poi prendono il latte e la mucca e sono tutti contenti come se uno fosse andato a vedere tipo di Yanomami della foretta che anche loro diranno ma chi si è in culo a te no? vieni qua è come quando appunto in Valsese gli abitanti della cosiddetta Alta Valsese quando vedono il milanese che va a occupargli la casa durante la quarantena dicono ecco è arrivato l'antropologo a romperci il cazzo dicono questo adesso dirà che bella vita pacifica che fate voi come siete tranquilli mentre poi appunto magari la gente tra di lei la pina mi sta sulle balle quello se n'è andato quello che quindi c'è come dire è un contributo alla letteratura di questo genere in Italia per intenderci che sghettizza un pochettino e questo è importante io ti ho ti ho dovuto leggere bene per questo incontro perché se no eri una delle tante cose con uno che si trova sul comodino e poi non sa cosa leggere è confuso mentre secondo me contribuisce ed è interessante come operazione non so cosa ne pensa Irene che ha più esperienza magari anche di me su questi luoghi c'è l'idea che un luogo è un luogo appunto e basta e che questa aura di romanticismo ha anche un po' rotto le balle no? Cioè c'è del reale sono d'accordissimo sono d'accordissimo e ho amato Sandro proprio per questo motivo perché in realtà le terre alte anche non altissime le terre d'apennino le terre boscate dei greppi che sono diversi dalle valli che conosco io ma sono anche le stesse finalmente sono nella luce giusta io parte della letteratura contemporanea che riguarda la montagna fatico a leggerla perché ancora il mito del buon selvaggio è veramente dietro l'angolo e che scatole poi in realtà quando abiti in un paese di montagna la commedia dell'umano è veramente sempre la stessa ma non per questo meno interessante e non è vero che come dicevi prima è vero come dicevi prima che non è la stessa ambientare la storia a Milano piuttosto che in montagna però non è vero che allora in montagna improvvisamente ci sia una redenzione dell'umanità e sono tutti buoni sono tutti carini la complessità c'è anche lì cioè qua in Valmaira vicino a dove abito io è stato girato il vento fa il suo giro con una montagna crudella una montagna cruda una montagna antipatica dove veramente il vicino di casa è quello che ti parcheggia storto per farti il torto eccetera eccetera quindi l'ho trovata molto vera molto credibile molto al di là degli stereotipi di cui abbiamo bisogno perché continuiamo a vagheggiare dall'urbe queste vette incontaminate con la mucca pezzata invece no per fortuna è un appennino molto vero molto vivo e molto per questo sfregiato macchiato pieno di tutti i difetti che sono propri dell'umanità e che ci rende così detestabili così invece belli ma in ogni caso umani e quindi si concordo su ogni punto che hai detto Leonardo e quindi è un libro che consiglio anche proprio per uscire un po' dalle vie battute del torniamo a vivere in montagna chi ci ha provato ci sta provando come me sa che invece è ben dura e che non si creda di lasciarsi alle spalle i meccanismi del condominio un po' diversi ma poi li trovi anche li trovi anche lassù e a proposito e che ne pensano i tuoi amici da pennino dei del libro hai avuto qualche qualche voce di ritorno allora Irene prima aggiungo una piccolissima cosa di ringraziamento a quello che avete appena detto perché per me il punto è proprio quello lì e mi fa molto piacere che sia passata una lettura di questo tipo perché premesso che insomma la mia quella in cui ambiento le mie storie non so neanche se tecnicamente possa essere detta montagna perché è più alta collina è più sì sul crinale arriviamo a 1800 1900 2000 metri c'è il Cimone e il Cusna che sono i due monti che fanno da riferimento però comunque è una collina un po' scasciata una collina rovinata una collina che ha un rapporto molto stretto con con la fascia pede collinare con le cittadine cioè la maggior parte della gente su fa ripendolare lavora a Sassuolo a Fiorano a Maranello cioè quei posti dove insomma dove c'è il lavoro perché su e quindi è tanto è veramente qualcosa di lontano dalla cartolina cioè sarebbe veramente un cattivissimo servizio se se io andassi in cerca dello stereotipo e poi sarebbe un cattivissimo servizio a me stesso e al mio tempo perché comunque a scriversi fa fatica e ci si mettono degli anni prendo appunti lavoro sto anni insieme a dei personaggi che tento di ricostruire di far parlare e è ovvio che uno le intenzioni sono sempre sono una cosa e i risultati finali sono un'altra però se avessi nelle intenzioni lo stereotipo cioè preferirei non aver scritto se non se non lo facciamo noi di di tentare di evitarlo lo stereotipo chi lo deve fare cioè per me è importante questa cosa poi ciò ciò non significa che che non ci siano stereotipi lo stesso quelli che quelli di cui mi accorgo con consapevolezza cerco di di eliminarli per quanto riguarda le reazioni su guarda io sono orgoglioso e stupito da questa cosa perché mi è capitato tante volte di descrivere inventando o pensando delle delle minuzie in cui qualcuno che che fa davvero quella vita che io mi sento di di cercare con le unghie di afferrare ma non afferrare mai riconosce come proprie cioè diverse persone mi hanno detto c'è davvero la vita che che vivo in questo in questo testo ma mica solo persone che stanno su su qua nell'Appennino me l'ha detto piemontesi friulani gente che sta nella provincia veneta appenninici centroitalici tipo marchigiani così è una roba che mi mi commuove molto perché nel mio piccolo è come la certificazione di aver fatto un lavoro ben fatto ecco ci sono personalmente due due assoli che sono meravigliosi sono proprio quelle parti di letteratura che dici meglio di così non si poteva dire questa cosa precisamente e sono i due canti proprio della Luisa e di Antonello alla fine quelli sono proprio non puoi smetterli non puoi smettere di leggerli e prima di farti la domanda volevo solo leggere due righe che sono dedicate a questo Lucchino così inafferrabile quindi si illudono questi sono gli altri di immaginare la lontananza da cui viene e dove andrà Lucchino rischierà gli occhi sulla ruggine delle scarpate dove non ci attentiamo e dormirà nelle torri vuote e sentirà dal camino la voce delle famiglie scomparse di notte i sassi che franano e squarciano le reti marce e dove sarà al mattino in quale spiazzo rabbrividirà fra i carboni spenti lasciati dai camper i barattoli rotti i lacci da scarpe nei sentieri di carpini sporchi dove marciscono i kleenex come madreperle sformate l'odore vago che resta all'aperto dove ci si ferma a pisciare in quei mattini bluastri in cui si è contenti di avere le maniche corte che il freddo ci prenda le braccia ci faccia sembrare bambini ma non lo saremo mai più ecco questo rende bene quello che è Lucchino che immaginano gli altri che sia Lucchino Lucchino che va dove noi non oseremo mai andare dove loro non oseranno andare chissà se poi ci è andato veramente è talmente difficile capire cosa ha fatto sul serio Lucchino è tanto immaginato però tra i discorsi universali che fai e non mi stupisce che dappertutto un po' in Italia ti dicono ehi Sandro hai parlato di me c'è questo dubbio che abbiamo forse un po' tutti io ce l'ho e me lo sono chiesta quanto sono Lucchino e quanto invece ho lasciato che la vita scegliesse per me sono veramente sfigatissima come Oreste che ho ancora capito forse lui ce l'ha una vita ma non si è ancora accorto di avercela ed è sempre così goffo che appunto quando dovevo dargli un albero era indecisa se il pinast era proprio brutto spelacchiato o la gaggia la caccia lì sulle scarpate non sai bene che fartene di questo Oreste e poi dall'altro polo appunto Lucchino perfetto che non sbaglia mai che sembra sempre padrone della situazione è un equilibrio che tutti troviamo tra quello che scegliamo e quello che subiamo e i legami che abbiamo con la terra con le persone che ci chiedono delle risposte ci chiedono continuità ci chiedono affetto e relazione e la voglia di andare e di scoprire e anche tu quanto ti trovi in questa in questa misura di lucchinità e di orestità ecco come vivi questo questo dialogo qua hai toccato un punto un punto grosso fondamentale ovviamente l'adolescente che sono stato io era un oreste fatto e finito è questo stesso no? cioè è inutile che ce la raccontiamo questo struggersi per le vite degli altri vedere è ovvio che ci si ci si immerge in questo struggersi qua quando ci si 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 da un angolo di disagio che è poi quello che che fa partire il tuo sguardo sulle cose che fa partire uno sguardo che con un po' di 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 allenamento diventa anche uno sguardo che le fa brillare di una luce un po' diversa perché se uno non vive una condizione di disagio e di spostamento rispetto alle cose si abitua a guardarle in un modo preconfezionato come le cose vanno bene sono quelle no e ci si fa anche meno domande e sono talmente stato oreste che ho avuto dei lucchini nella mia vita che mi hanno segnato l'adolescenza mi hanno credo insegnato insegnato il mondo in un certo senso quindi col tempo crescendo forse adesso sono un equilibrio delle due cose non vedo più una figura come quella di Lucchino soltanto dal lato del fascino e dal lato del come dire come se fosse colui che in tutto e per tutto fa la vita che noi che siamo rimasti qua anelleremmo fare e invece ci è stata preclusa lo vedo anche nei suoi lati e appunto sradicati nei suoi lati tristi nei suoi lati comunque Lucchino da qualche parte si troverà solo in questi viaggi e la cosa la parte che hai letto tu per me sta a pennello in questo discorso è perfetta perché quella descrizione che forse è uno dei punti un po' dove mi sono lasciato prendere un po' più la mano lirica che Luisa delle volte lo fa altri meno quella descrizione lì punto per punto tira dentro degli elementi che sono la Arni la Arni è questa strada che dalle Alpi che attraversa le Alpi Apuane ed è la strada che se noi scavalliamo il passo sia chi scavalla dal passo delle radici chi dal passo del Lagastrello dal Cerreto comunque chi dall'Appennino Toschemiliano va verso il Tirreno e arriva ad Aulla facendo la strada normale ovviamente non l'autostrada e poi si può prendere questa strada che è la Arni che corre in mezzo alle Apuane in mezzo alle cave di marmo che quindi sembrano scintillare come neve ma sono semplicemente scavate da sta foga estrattiva e davvero vedi questa valle stretta cupa dove picchia pochissimo il sole dove le cose abbandonate da chi viaggia in fretta rimangono lì a marcire e c'è sempre freddo anche in orari in cui non te lo aspetti ed è quella strada che porta al mare più prossimo ma quindi al concetto di esotico familiare che è esattamente quella cosa che Lucchino provoca a chi lo guarda quindi sì questa descrizione qua che hai letto ci tengo tanto perché è un po' è un po' il vestito paesaggistico che descrive quel lato di Lucchino di cui abbiamo appena parlato beccato siamo allora io devo fare che visto che mi sono dato sto compito fare anche il compito dei 50 minuti trascorsi in allegria con Irene e Sandro e ricordiamo le solite cose che dobbiamo ricordare la prima è che la collaborazione con l'evento di oggi di Sandro Campani che abbiamo come dire con cui abbiamo dialogato insieme a Irene Borgna è stato fatto con la libreria della montagna di Torino per cui se per caso anche nel contesto del lockdown qualcuno avesse come speriamo voglia di leggere il libro di Sandro che bellissimo come ci ha mostrato anche non vediamo mai bravo Sandro bravo Sandro che addirittura lo ha letto come vediamo dai post-it non solo scritto ma letto un scrittore diligentissimo anche lettore e tra l'altro diciamo è una bellissima libreria la libreria della montagna di Torino che è specializzata in collane come per esempio quella in cui ha pubblicato anche Irene che è la collana speciale di Ponte Alle Grazie quella fatta in collaborazione col club alpino italiano sono tutte diciamo c'è tutto un immaginario di letterature di saggistica legate a un'immagine di montagna che cerchi di ridare diciamo a questo a questo luogo non soltanto il suo presunto esoterismo ma anche il luogo vivente vivo come abbiamo mostrato oggi per cui facendo gli onori di casa ringraziamo Circolo dei Lettori Leonardo Smiroldo di Ubreria della Montagna ma soprattutto Lei Naudi che ha pubblicato il libro di Sandro I passi nel bosco e ciao grazie ciao a tutti grazie mille anche da parte mia e sì andate in libreria che aspettare un po' di più ci si gode meglio le cose non c'è bisogno di farsene consegnare dieci minuti dopo grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille